L'Italia delle donne che lavorano, uno dei tanti appuntamenti interessanti di Benvenga Maggio, un'iniziativa che raccoglie sotto un unico logo molte associazioni toscane che sono capitanate dalla CGL. Per tutto il mese di aprile ci saranno una serie di iniziative che porteranno a discutere, a parlare sul tema del lavoro. L'incontro di oggi a cura di Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con CGL Toscana e Laboratorio Immagine Donna vede tra gli ospiti il segretario generale della CGL nazionale Susanna Camusso che in tema di lavoro e donna ha già detto molte cose anche poetiche in Vieni via con me facendone quasi un decalogo. Fra i punti evidenziati ve ne ricordiamo adesso almeno uno. Felice è il giorno in cui non dovrò conquistare niente di più, staranno meglio anche gli uomini. Si parla del lavoro e delle donne che forse nel precariato sono quelle che raccolgono maggior numero. Ma io penso che le donne in questo momento sono quelle che pagano il prezzo più alto alla crisi perché in questo paese c'è una disoccupazione che cresce ma cresce più per le donne. Ci sono più licenziamenti e sono più le donne licenziate, ci sono minori stipendi e le donne guadagnano meno e ci sono tagli al welfare che soprattutto pagano le donne perché se manca un tempo pieno c'è una madre che si deve far carico di questa situazione e credo che questa sia anche la ragione per la quale le donne oggi sono al centro di tante tensioni, di tante iniziative come forse non è mai stato. Quindi più politiche per le donne e più donne nella politica? Io penso che il ruolo del genere delle donne sia decisivo. D'altra parte la manifestazione del 13 febbraio ci ha detto di una forza prerompente che non possiamo né sottovalutare né non vedere. La donna è capace di reinventarsi e di reinventare anche il proprio lavoro, l'attività. Certo questo governo non agevola. Esatto, tutte le politiche che questo governo ha fatto da quando si è insediato basta pensare che la prima cosa che ha fatto ha tolto l'unica legge delle dimissioni in bianco che era una legge mirata proprio alla condizione del lavoro delle donne perché purtroppo le donne vengono assunte, firmate le dimissioni in bianco perché poi rimangono incinta servirebbero politiche che agevolano anche la donna. In realtà questo che ho appena citato, le politiche che riguardano la scuola, il fatto che non è stato rifinanziato il fondo per la non autosufficienza per gli anziani, tutte queste cose costringono la donna ancora una volta a rimanere tra le mura domestiche magari e avere grandi difficoltà anche a reinventarsi perché insomma le donne grandi organizzatrici del proprio tempo dovrebbero anche, possono anche avere in qualche modo di sapere reinventarsi. Il problema è proprio questo, che non ci sono in questo paese politiche per far sì che le donne possano assumere anche nell'intera società un ruolo più importante. Aumenta la disoccupazione e se ne potrebbe dire, la disoccupazione aumenta per tutti ma in modo molto forte per le donne. Il 13 febbraio nelle piazze d'Italia c'è stata una straordinaria partecipazione di donne e anche di uomini in realtà, non solo di donne, diciamo così, chiamata, raccolta in queste piazze da uno schieramento grandemente trasversale. C'erano molte voci, molte voci sia dal punto di vista della politica sia molte voci dal punto di vista della rappresentanza complicata di una società come la nostra. Ciò che mancava, perché forse bisogna cominciare a dirla così, era la maggioranza politica di questo paese. C'erano tutti gli altri, sia in termini di società civile sia in termini di politica. E io credo che non sia tanto strano che non ci fossero perché sono anche all'origine di quella protesta e della necessità di cambiare registro, perché quelle piazze hanno raccolto attraverso alcune parole d'ordine, alcune esigenze. Sostanzialmente l'idea che questo paese, le donne di questo paese, molti uomini di questo paese non sono disposti a farsi rappresentare in questa telenovela di cattivo gusto, come abbiamo detto in più occasioni in quel giorno, che sembra diventato il governo e la rappresentazione del nostro paese. Poi quelle piazze però avevano due riflessioni che credo continuino a esistere in tutti i tredici, visto che qui facciamo tutti gli otto, li possiamo riproporre tutti i tredici. Una è quella che la dignità delle donne non è tema a disposizione di nessuno e che chiunque la violi così come è stata ampiamente violata nei messaggi dati da questo governo non ha, come dire, liceità di farlo, non ha diritto e possibilità di farlo. Ma l'altra grande parola d'ordine che c'era in quelle piazze è che dignità è connessa alla possibilità di decidere per sé, di decidere se lavorare, come lavorare, quanto lavorare, di lavorare in una condizione di tranquillità e di stabilità. Per quel che riguardava le giovani donne in particolare, il messaggio di quella piazza, ma che sarà di nuovo il messaggio delle piazze di domani, era il messaggio che la precarietà è una condizione che impone la contraccezione da un lato e dall'altro che non permette il progetto di vita. Direi che per collegarlo alle tante cose che si dicono in questo periodo, quella era una piazza che dice che ci può essere un futuro migliore di quello che ci viene prospettato da questa situazione. Basta pigliare le statistiche che fa regolarmente Alma Laurea del comportamento delle laureate e del paragone tra le laureate femmine e le laureate maschi. Se si pigliano, le laureate hanno mediamente voti più alti, tempi più brevi per la laurea, prese a un anno di distanza dalla laurea, hanno già una condizione di discriminazione salariale rispetto ai loro colleghi uomini. Quindi è evidente che c'è ancora un pregiudizio. Così come se noi pigliamo le dinamiche di carriera, non nei luoghi dove c'è il 90% di uomini e il 10% di femmine, ma se pigliamo la pubblica amministrazione che è in gran parte composta da lavoratrici più che da lavoratori, la base della piramide è ampiamente femminile e mentre si sale al vertice scompare un genere. Abbiamo fatto recentemente una discussione, non me ne voglia la Presidente, una discussione sulla presenza del 30% di donne nei consigli d'amministrazione, ho sentito un fuorilegio di affermazioni sul perché non si potrebbe fare che alla fine nascondono un pregiudizio, cioè che non ci siano donne che hanno le competenze. Mi domando se questi uomini ce li hanno sempre, perché c'è un dato per scontato che non corrisponde. Però credo che sarebbe utile capire da dove deriva questo pregiudizio e quali comportamenti continuano a far sì che ci sia questo pregiudizio. Culturalmente questo paese non ha ancora digerito il fatto che non ci sono dei ruoli prefissati e che vanno mantenuti, per cui l'uomo sta al lavoro sulla scena pubblica e nel universo mondo e le donne devono stare a casa ad accudire la casa, accudire i bambini, fare tutte queste cose qui e se proprio vogliono lavorare lo facciano per integrare il reddito della famiglia e non perché possono esprimere un autonomo progetto di lavoro. Questo è il pregiudizio che sostanzialmente c'è e quindi tutto il sistema di misurazione, l'idea su cui si costruiscono le carriere, le retribuzioni, parte da questo pregiudizio. Poi ovviamente, siccome questa teoria non regge, cominciano a esserci gli evidenti casi in cui tutto questo non funziona. Confindustria ha cominciato da una presidente nazionale e c'è una serie di presidenti nelle regioni, qualcuno si affaccia anche nelle altre associazioni imprenditoriali, diciamo così, un po' meno visibilmente, ma cominciano ad affacciarsi, cioè qualche segnale che insomma il mondo è un po' più vario e non ci sono questi ruoli così stabili nel tempo, c'è, stendo un pietoso velo sulla politica, perché mi pare che invece lì siamo alla dimostrazione che oltre al pregiudizio culturale generale ce n'è un tot di altri, tra cui uno che è quello forse più dannoso di tutti, e cioè l'idea che le donne non sono dei soggetti in sé, ma sono delle cose cooptabili, e quindi se le hai cooptate tu esistono, se non le hai cooptate tu non esistono, e questo ovviamente è un grande danno poi alla capacità di liberare risorse.